Alla Asli, Teramo, capi di partimento e primari sul piede di guerra per il taglio delle ore di straordinario, situazione che ha portato la Direzione Generale a ricevere numerose proteste per la scelta fatta. Circostanza su cui i sindacati ribadiscono che lo straordinario delle circa 96.000 ore preventivate dovrà essere portato per forza di cose a circa 165.000 ore effettuate, altrimenti si rischia lo stallo in alcuni settori. Ma di diverso avviso la Direzione Sanitaria Teramana, che definisce questa scelta un atto dovuto. Bisogna fare un'analisi molto attenta sulla vicenda, perché dopo, altrimenti arriviamo alle condizioni in cui per lo sforamento del tetto dello straordinario non riusciamo a pagare gli incentivi al personale del comparto, perché il fondo è unico e da lì vanno a attire tutti i fondi, i soldi, per poter pagare sia lo straordinario, gli incentivi, le competenze accessoriche. Mi sembra strano che si arrivi a questo, perché noi come ASL, come Direzione Strategica, e in primis pure il Direttore Generale, che ne è l'artefice di questa analisi, noi abbiamo garantito sempre il personale, le sostituzioni, quindi risulta, come possiamo dire, un po' eccessivo questo ricorso allo straordinario. Lo straordinario non deve diventare lavoro ordinario, lo straordinario si ricorre nei momenti di urgenza effettiva. E certo, noi oggi c'è carenza di personale, ma stiamo tamponando con l'ufficio infermio di tutti i settori, stiamo dando, diamo sostituzioni per le malattie, per tutte le tipologie di assenze che si vengono a verificare, noi diamo sempre la sostituzione. Abbiamo tamponato anche per far sì che le ferie, anche quest'anno con un centinaio di assunzioni infermieri e os, quindi non è che l'azienda non assume, e quindi ci sembra strano che di colpo, dalla media delle 90.000 ore straordinarie degli anni precedenti, si arrivano a 162.000 ore, quindi qualcosa non va, va rivisto tutto il sistema straordinario, perché non deve essere un abuso, va fatto dove effettivamente serve. Dove effettivamente serve noi non ci tiriamo indietro, ma dove non serve va fatto l'orario ordinario, e con l'orario ordinario bisogna sopperire alle richieste sanitarie dalla parte dei cittadini. Ci sono ancora dei settori carenti, è giusto che si faccia lo straordinario, ma dei settori in cui il personale è stato assegnato e l'allocazione del personale risulta quasi al completo, vogliamo vederci bene e quindi ecco che abbiamo deciso di rivedere la distribuzione di queste ore.